È morta, la famosissima campionessa olimpionica, scoperta shock della famiglia. È raggiunta nella frenetica capitale per seguire con passione la ginnastica artistica, con un unico obiettivo ben chiaro, partecipare ai giochi olimpici di Los Angeles nel 2028. Questo ambizioso traguardo sembrava alla portata della giovane campionessa sedicenne, che, nonostante la sua tenera età, aveva già dimostrato il suo valore sulla scena sportiva. Interrompiamo giusto un istante il video per ricordarti di mettere un mi piace e di iscriverti al nostro canale. Con dedizione, si presentava sulla pedana mostrando il frutto di estenuanti allenamenti e esercizi ripetuti centinaia di volte per raggiungere la perfezione. Sembrava un sogno, anzi lo era, fino a quando le nuvole oscurarono il suo cielo e il sogno si tramutò in un incubo il 16 novembre scorso, in circostanze ancora da chiarire. La notizia della sua morte improvvisa è emersa solo nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole. Con grande sgomento, piangiamo la scomparsa inaspettata della nostra campionessa. A quanto si apprende, la procura ha avviato un'inchiesta sulla tragica scomparsa di Mia Sofie Littke, la talentuosa ginnasta tedesca che sognava di brillare con la maglia della nazionale ai cinque cerchi olimpici. Il suo talento straordinario le aveva fruttato il titolo di campionessa tedesca junior di cerchio l'anno precedente. Alcuni suggeriscono che alla base del suo improvviso decesso possa esserci stato un infarto. Tuttavia, le circostanze esatte devono ancora essere determinate, gettando un'ombra di mistero sulla perdita di questa giovane promessa dello sport. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità sportiva e i suoi sostenitori, lasciando tutti con un punto di domanda nella mente. Cosa ha portato alla morte così prematura di Mia Sofie Littke, la giovane ginnasta destinata a brillare alle Olimpiadi? In questo momento di dolore, siamo tutti chiamati a riflettere su una vita promettente interrotta bruscamente e a cercare risposte che forse solo il tempo e l'indagine riveleranno.